Stazione dei treni di Spresiano, 9.50 del mattino, pochi pendolari sulle pensiline. All'arrivo del regionale da Venezia a Perudine, la tragedia più orribile davanti agli occhi degli altri viaggiatori. Un 19enne è sceso sui binari, questione di istanti, e si è fatto travolgere. Il corpo è stato trascinato per metri, il ragazzo è morto sul colpo, sotto l'unguardo impietrito di chi non ha potuto fare nulla per trattenerlo. Il macchinista, che ha tentato una disperata frenata, è riuscito a bloccare il treno solo un centinaio di metri più in là. Immediato l'arrivo di suo M118, polizia ferroviaria e carabinieri, inutile ogni tentativo di soccorso, solo la pietosa raccolta degli effetti personali del ragazzo che hanno permesso di identificarlo. Studente universitario a Padova era il figlio maggiore proprio di un carabiniere in servizio nella marca. Ai colleghi è toccato il compito straziante di informare lui e la moglie di quanto accaduto. La coppia ha anche un altro figlio di 16 anni che era a scuola al momento del fatto. I genitori non sanno darsi una spiegazione del gesto compiuto dal giovane. Non c'era stata nessuna avvisaglia di una disperazione tanto profonda. Un dolore enorme che ha colpito la famiglia, l'arma trevigiana e l'intera comunità di Spresiano, con il sindaco Marco Della Pietra che questa mattina si è recato personalmente sul luogo della tragedia.